Il Comune di Pesaro e la Regione Marche presentano l'accordo per recuperare l'area del San Benedetto. Ad illustrare il progetto oggi in una conferenza stampa il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l'Assessore regionale Stefano Aguzzi. Grazie all'interesse dell'Assessore Aguzzi della Regione abbiamo trovato subito un accordo con il Comune su come intervenire e abbiamo nel giro di poche settimane definito il quadro dove ognuno sa che cosa dovrà fare. L'Assur e la Regione dovranno ristrutturare circa 6.000 metri per gli uffici dell'Assur, al tempo stesso potranno mettere in vendita circa 1.000 metri di residenziale. Insieme al Comune e Regione stiamo partecipando ad un bando per la parte più importante dell'edificio, quella più imponente che sta sul corso 11 settembre, un bando sulla rigenerazione urbana. Invece come Comune interveremo sull'area dell'ex lavanderia che viene ceduta dalla Regione al Comune stesso. Stiamo già lavorando per una variante non sostanziale per dividere l'intervento, un intervento diviso, metà a carico della Regione, una parte insieme Comune e Regione, una parte a carico del Comune che punta ad intersettare le risorse che ci sono. Alcuni bandi scadono già adesso il 16 marzo e quindi incrociamo le dita perché se riusciamo da subito a vincere uno di questi bandi riusciremo subito a partire con una parte degli interventi. La parte che interessa maggiormente al Comune di Pesaro è quella culturale vicino alla biblioteca. La parte invece sul corso, il bando è sulla rigenerazione urbana legata all'abitazione, ci sono però anche diversi interessamenti dal punto di vista del socio assistenziale, socio sanitario. La parte invece di competenza della Regione sono uffici e invece la parte su Via Mammolabella sono abitazioni. Parla di circa 40 milioni di euro di investimenti e con i tempi che sono ci sono stati anche alcuni tentativi di asta andati sempre deserti. Le cose fondamentali sono due, una la disponibilità di Asur che non è sia espressa gli anni addietro in questo modo a riutilizzare una parte di quell'immobile e l'altra cosa fondamentale è che il progetto che il Comune di Pesaro sta portando avanti che sarà presentato entro il 16 di marzo, per questo c'è anche un po' di fretta nel farlo, per ottenere dei fondi ministeriali c'è un bando apposito di riqualificazione. Ecco, se questo bando potesse vedere vincente il Comune di Pesaro sarebbe un buon viatico. Non dovesse andare a buon fine, tra virgolette, questo tipo di impostazione in questo bando, rimane comunque valida l'iniziativa perché secondo me da qui alla prospettiva, bandi vari, ricovere fund e quant'altro, ci possono essere fonti di finanziamenti importanti indipendentemente da questo bando già uscito in questo momento al quale stiamo partecipando.